Ciao amici e Revotech a tutti! Ecco a voi il video sulle prime impressioni di questo Redmi Note 9S che profuma di Best Buy, come dice giustamente lo zio, e siamo qua apposta per provarlo e dirvi tutti i pro e i contro, e in questi primi due giorni devo dire che abbiamo già avuto un update, l'abbiamo configurato, abbiamo fatto qualche foto e qualche video, ancora non abbiamo assestato la batteria perché ci vorrà un po' di tempo, ma vi ricordo che ha una batteria da ben 5000 mAh associato a uno Snapdragon 720G a 4GB di RAM LP DDR4X e 64GB di memoria interna espandibile con un ulteriore slot microSD oltre alle due nano SIM, quindi non perdiamo altro tempo e subito dopo la sigla vi dico le prime impressioni! Bene eccoci qua con il nostro Redmi Note 9S, vi ricordo non l'ho detto prima che ha delle memorie interne di tipo UFS 2.1 abbinato a 4GB di RAM LP DDR4X, guardate questa bella colorazione con questi riflessi soprattutto all'aperto, com'è bello questo gioco di luci e di riflessi! Qui c'è il quadruplo modulo fotografico, passiamo alle dimensioni così dopo vi tolgo la curiosità di farvi vedere questo IPS all'aperto! 76,7 mm x 165,7 mm x 8,8 mm di spessore, peso considerevole di ben 209 grammi ma sappiamo che ospita una generosissima batteria da ben 5020 mAh, schermo con diagonale da 6.67 pollici LCD IPS. Il tutto è supportato da una CPU Qualcomm Snapdragon 720G Octa-Core e una GPU per la grafica Adreno 618. Con l'ultima realizzazione della MIUI stabile che è questa, abbiamo la MIUI 11.0.6.0 stabile, andiamo a vedere tutte le specifiche, il livello patch di sicurezza risale al primo aprile quindi molto recente, abbiamo anche qui la modalità scura nonostante sia un IPS, devo dire che è un bel display per essere ovviamente un'unità non super AMOLED che sapete che all'aperto ha un contrasto migliore. Sulla parte destra abbiamo il sensore di impronte digitali posto esattamente sul tasto POWER che è molto preciso e basta sfiorarlo per avere lo sblocco, guardate com'è veloce! È fulmineo, anche lo sblocco volto, doppio tap, sono dietro la videocamera ed è immediato, quindi molto bene anche lo sblocco volto, ovviamente 2D e abbiamo il bilanciere del volume in un unico tasto sopra al sensore di impronte digitali. In alto sensore di infrarossi e il microfono per la suppressione dei rumori e qui la fotocamera frontale da 16 megapixel. Dalla parte sinistra c'è solo il carrellino delle due nano sim più lo slot per la micro sd quindi 3 slot, sotto abbiamo il jack da 3,5 mm audio, ottima notizia, l'ingresso usb type c 2.0, altro microfono e speaker di sistema. Dietro la parte più importante, il modulo quadruplo da 48 megapixel più 8 più 2 più 5. Abbiamo anche quindi il sensore dedicato alle macro e il sensore dedicato allo scontornamento e bokeh, oltre a un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel. Per far scattare 48 megapixel ovviamente c'è la funzione dedicata nella fotocamera, come sappiamo ormai nella MIUI c'è proprio un menu a parte, 48 megapixel, ecco qua. Poi c'è la funzionalità ritratto, video, breve video, slow motion, il solito menu della MIUI. Questo è il display che in questo momento è al massimo, gli angoli di visuale vedete che un po' perdono perché siamo alla luce naturale all'esterno, però anche se non è un fanale devo dire che si vede comunque molto bene. Andiamo a vedere il menu, come si legge, bianco su nero si legge bene. C'è da dire anche che è stata preinstallata una pellicola, perciò questo potrebbe minima parte influire sulla visibilità del display, ma è comunque meglio tenerla. La sua cover l'abbiamo provata ed è di buona fattura, plastica molle, TPU, con però angoli rinforzati, vedete, e la fotocamera che è protetta nella sua sporgenza, che è di circa un millimetro, da questa cornice di plastica che va a proteggere. Qui c'è addirittura anche un tappino che va a proteggere dalla polvere, dall'ingresso della polvere, l'entrata dell'USB-C. Lo sblocco l'abbiamo visto, vi faccio vedere qualche foto, qualche video. Mi piace molto la resa dei colori e i contrasti, colori fedeli, non troppo carichi, devo dire. La camera non è stabilizzata, ha una stabilizzazione digitale, ma non è stabilizzato, infatti è abbastanza ballerino. Invece è stabilizzato digitalmente il video a 30 fps a 1080p. Comunque ragazzi, lo sto usando, vi saprò dire di più. Mi sta piacendo perché è comunque molto fluido, ovviamente abbiamo un processore di fascia media, però devo dire che a poco meno di 200€, in questa fascia di prezzo, avere un modulo quadruplo con un 48MP, comunque un bel display, una camera frontale da 16MP che comunque scatta ottimi selfie, molto bene, non brucia neanche troppo le luci dietro, e mi piace molto nella gestione, come dicevo, dei contrasti. L'HDR lavora bene e anche il bilanciamento del bianco è ottimo. Colori non sparati e anche la grandangolare lavora bene. Comunque continueremo a provarlo, ci siamo trovati bene. Per queste prime impressioni è tutto, amici. Ci rivediamo prestissimo per la recensione di questo, per la recensione del K30 Pro, per i confronti vari e anche fotografici fra questi tre, perché abbiamo ancora il Mi 10 Pro, e anche per le prime impressioni sugli altri device che ci sono arrivati. Quindi c'è tanta carne al fuoco e tanto di cui parlare e confrontarsi insieme. Qui c'è assolutamente puzza di best buy. A meno di 200€ avete una buona fotocamera, sicuramente, che sapete che con i prodotti Xiaomi va a migliorare, al netto di qualche piccolo lag e impuntamento che abbiamo rilevato in questi primi giorni. Abbiamo ricevuto proprio oggi un aggiornamento per quanto riguarda la stabilità del sistema, perciò diamogli un po' il tempo di assestarsi. Batteria eccellente, davvero mulo, quindi io penso che per meno di 200€ ci possa essere poco di alternativo con questa qualità. Sentiamo solo un video YouTube per farvi capire l'audio. Costa Dragon 865, display flat, fotocamera pop. E l'audio è mono, assolutamente, ma molto ben ottimizzato il display e le cornici. Ma abbiamo finalmente sul piatto un top di gamma a meno di 500€. Brava Redmi! E con questo dico benvenuti e Revotec a tutti! Qui abbiamo... non c'è l'audio stereo, sentite? Si va completamente a coprire l'audio. È un prodotto davvero interessante, c'è anche la radio FM. Purtroppo c'è la mancanza dell'NFC e qui Xiaomi la cogliamo in fallo ancora una volta e dovremmo invece cominciare a metterli anche sul medio gamma perché è una caratteristica che serve e quindi Xiaomi qua ti tiriamo un po' le orecchie. Il Volt non è sopportato dall'operatore ma con Tim vediamo apparire la chiamata HD però non aggrega in 4G+, ovviamente non c'è neanche il 5G. Bene, vi lascio alle domande, commentate intanto sotto al video, ci teniamo la vostra opinione. Usciamo tutti insieme da questo incubo e da questo momento un po' particolare. Forza Revotec e ci vediamo prestissimo. Un saluto da Pasqui. Ciao! Un saluto da Pasqui.